La quarantena ha costretto molti italiani a stare chiusi in casa e a reinventare il proprio stile di vita. Il 48% combatte lo stress con il cibo ed aumentato di peso e solo il 3% ha smesso di fumare. È quanto emerso da uno studio sui cambiamenti delle abitudini e dello stile di vita in lockdown a causa del Covid-19, condotto su 3.500 persone da Laura Di Renzo, professoressa di nutrizione clinica e molecolare dell'Università di Roma Tor Vergata insieme al direttore del Dipartimento di Biomedicina e Prevenzione Antonino De Lorenzo. Le scelte alimentari che abbiamo fatto durante questo periodo ci fanno capire che abbiamo seguito di più i dettami della dieta mediterranea e questo soprattutto si è verificato in una fascia di età dei giovani tra i 18 e i 30 anni. Il 44% degli intervistati ha un appetito superiore alla media e 1 su 2 ha aumentato di peso. Il 43,7% si è reinventato pasticcere preparando dolci in casa, mentre il 33,6% ha preparato la pizza. L'obesità predispone alle infezioni virali e in caso di Covid aumenta l'ingravescenza e il rischio non solo di morbidità ma anche di mortalità. C'è chi ha voluto continuare a tenersi in forma allenandosi a casa, tanto che la percentuale di chi fa attività fisica 5 volte a settimana è aumentata dal 6 al 16%, mentre chi non si allenava prima non ha iniziato neanche ora. Il 53% si dichiara preoccupato per il lavoro e l'economia e il 41% per la salute, mentre il 54% non ha paura di ammalarsi. Resta comunque il 70% che soffre di una forma più o meno grave di inquietudine. Sappiamo che c'è una stretta relazione nell'asse intestino-cervello. Riuscire a mantenere il giusto equilibrio delle specie microbiche del nostro intestino ci garantisce una riduzione dello stato d'ansia, ma ci garantisce anche una minore infiammazione e quindi una migliore risposta, un'attivazione immunitaria con una migliore risposta all'insulto di patogeni, in questo particolare caso di virus.